La primavera della Fiorentina, partito però qui da San Giovanni, che cosa ricordi di quel periodo passato qui nella tua città? È stato un bellissimo periodo, ero molto piccolo quindi sono passati tanti anni, comunque ho un ricordo molto positivo di questa società e sono un tifoso attualmente della San Giovannese, a tutti gli effetti. E col salto a Firenze come è arrivato? Mi hanno visionato nell'anno 2005 e sono arrivato a Firenze molto giovane, adesso è l'ottavo anno che gioco nella Fiorentina e è una bellissima esperienza, spero di continuarla ancora per molto e di realizzare il mio sogno. Soprattutto vestire la maglia viola è già un sogno che molti vorrebbero hanno e che non riescono a realizzare. Molti ragazzi purtroppo, anche molto bravi, non riescono a fare un settore giovanile alla Fiorentina o magari altre società molto importanti in Toscana perché non hanno avuto la fortuna di essere visionati ma molti ragazzi sono molti forti anche a Nella San Giovannese, ci sono moltissimi giovani molto promettenti.